Nel video precedente No, no, ma, spacco Vai! Massaggio superaudio di panca Ciao a tutti ragazzi e avete visto in questo nuovo video qui Mirko Erika Oggi siamo sulla carriera allenatore Altra serie su FIFA Dato che ci avete chiesto praticamente Di continuare a fare tanti, 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 tanti Video su FIFA Quindi Però questa carriera Questa carriera sarà seria Non quella con Southampton Vada Liverpool Non sarà co-op Quindi Potremmo giocare bene E ora andiamo a scegliere Andremo a scegliere la squadra Ok, dopo una lunga riflessione abbiamo scelto la squadra Sarà il Millwall che milita In Championship E ora voi vi starete girando Chi è il Millwall Che squadra è magari Quelli che si intendo di più di calcio lo sanno Il Millwall è stata fondata nel 1885 Da degli operai Da un'azienda di operai A dei tifosi che sono Doc E sono chiamati The Lions Sileoni Come lo stemma Come lo stemma La squadra origini scozzesi I tifosi si chiamano così perché Nel 1900 quando il Millwall vinse la FA Cup Fecero i Leoni Prima ancora eravamo chiamati The Dockers Una roba del genere Per via dell'orario puntuale Non so per quale ragione Però è così La squadra milita a Londra Milla città a Milwall È lo stadio Il New Wind Stadium Iniziamo questa carriera Iniziamo questa carriera Iniziamo questa carriera Eccoci qui sul Cittadini d'Abruzzo Ciao Fedebossi Agüero Ciao Rixghost Premier 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 Rivaloni Raga questa è la formazione potete vederla Perché nel momento abbiamo lottato per questo 4-4-2 Vi conosciuti il recessore in edge che ha giocato all'Udinese Allora raga dobbiamo cercare una punta E' un esterno destro Quindi consigliateci Mi raccomando Ok stiamo provando a trattare per Federico Bernardeschi Ma se ti chiesto Oh Bernardeschi si può prendere a zero Io ti offro un euro Oh no Per Federico Bernardeschi per ieri 4500 per Acpom E' un'escarenza 100.000 euro 400.000 euro per Acpom Perché non ti trovi No è proprio una stronzata Porco 2 è una marea Oh senza scadenza Ti chiede il popolo 25 è lui E' un'escarenza 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 Federico Bernardeschi Bell addressed E' un'escarenza E' un'escarenza Lo accamis Andiamo a simulare la School Andiamo a simulare il controllo Il Daente cura la madonna così comune altra amicevole contro la dallas vi andiamo con la squadra titolare contro il dallas squadra americana 3 a 0 vivo ho detto sono un grande di due peccato quelli rispondono il monset club attento questo è il mio avviso saldi di sfata 3 a 1 non si fa 2 a 1 che ho detto 2 a 2 tra poi iniziere il campionato salvarsi noi dobbiamo vincere questo campionato ora la prima attia di Coppa è una partia importantissima ci saluta Pasqua Germano Pasqua ci saluta che Pasqua è este chiediamo informazioni per Mustafa Dumbia cioè Dumbia uno meglio di questo penso uno e ora andiamo a fare la prima partita di questa carriera di Capitano One Cup contro il Preston ok andiamo a fare questa partita di Capitano One Cup Capitano One allora raga visto che diciamo poi si sono chiamati The Lions ci siamo organizzati così mentre quello gioca quei due fanno il tifo fanno i Lions i Lions dai stai giocando contro delle Capri dai uuuu mi 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 uuuu questo è un pezzo di merda pezzo di merda pezzo di merda oh akbom eppure ne ho acquisto akbom oh attenzione akbom 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 è proprio froci garnier porco tu sei pelato garnier te chiami uuuu 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 applausi per akbom di sottofondo grande partita la sua finora uuuu oh di tappo no pari un albero pari un albero uuuu pari un albero uuuu uuuu pari un albero 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 uuuu no garnier nooo nooo perchè va lì via uuuu ora ne chi uuuu 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 che ci siete venuti che ci siete venuti che ci siete venuti a fare uuuu 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 zero a zero uuuu è caldo è caldo uuuu uuuue come si fa non fischiere un pollo del genere da rigore cazzo neanche i rocchi come la juve siete come la juve come la juve come la juve come la juve come siete poi ripartiamo Puccio S adibati Pazzo del voto Dai! Mi vuole il contaggio Abdu 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 Di mezzo Oddio Bernardeschi No L'ha potuto L'ha potuto Arriva la situazione Gondi No Oh Buu 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 Che fanno? Bernardeschi Noo perchè è la? Noo Allora le mettono di merda Rega io ho premuto alle 1 triangolo Cosa di Bernardeschi assist meravigliosa Cazzo Ma io ho premuto alle 1 triangolo non ci credo male Abdu Abdu Fallo no Cazzo C'avete sole e balazzi Sole e balazzi C'avete sole e balazzi Via Sole e balazzi C'avete sole e balazzi Sole e balazzi Sole e balazzi E poi abbiamo costruito i nostri No Oh no Eeeh No No Nooo Nooo Non ci credo non ci voglio credere Via Nooo Nooo Spazza Martin Martin Cazzo Cazzo Sì Vabbè 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 e punta giù centra distra webster non sbaglia non per favore siiii e di fai di scena nel capo siiii siiii sii cazzo il mewar passa 23 posti minuti di video per un cazzo di partita il mewar passa si capitano ho rotto le palle si va avanti dai è così 300.000 per gustavo ci sarà la partita di federico con il world warhampton questa è la formazione un po' di cambi che nemmeno si noteranno tra l'altro oltre bernardeschi però per la stanchezza e portare magari la prima vittoria in campionato è la prima partita andiamo a giocare ok si parte al world warhampton stadium andiamo a vincere raga dagli costo che va abdu abdu mi raneghi mi raneghi più che va bene perché arabi cazzo cazzo via forca puttano facci sognare o mi vuoi facci sognare facci sognare o mi vuoi facci sognare ancora nemmeno che ci vuole eserci capito cazzo no non c'ho parole andiamo a rinforzare eri buon cosa che che ho fatto per tre quattro non c'è non un altro ma stupendo troffi è che lo troffi cazzo cazzo dai dai vi fai che ci sorgono ma pure che si giallo è già un giallo a prendere che ci siamo molto Baccarisako 1 a 0 Dai crediamoci anche tu Dredd incita questa squadra Con Mcdonald che è partito Mcdonald pubblicito Mcdonald Mcdonald Sterza va sul Warford Che va a buttare me? Su cazzo Benerdeschi Benerdeschi Nooo Gli ultrassi mi vanno a navigare la macchina Dopo questa occasione sbagliata Tira e se lo porta a casa Sbagliato il primo gol in camp finale Esce il mid-wall Esce bene con il cuore Guarda la bandiera che funziona Oh no Non so che gli hai che scatola la pata Premi noi di speranza per il mid-wall Cioè con un live La scatola di non la pata è lo stesso Oh Bernardeschi Figa ti vuoi muovere Finisce qui Warford con Bat 2 a 0-0 Seconda partita Tava abbastanza male Quella era difficile Regà Siamo da sui giocatori stanchi Siamo da sui giocatori 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 3 anni in una squadra In una squadra con chiave Oh le Dumbuia arriva Dumbuia E taglia Con me Con me Tra me È incredibile Milwall Cardiff Staccia dura dura Però in casa non si passa Difensori Dumbuia Difensori tracciamo sta linea Non devono passare Poi Giano Non sopporto Attento 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 Eh non sopporto Stava lì Stava E ecco dunque Arrivando il primo L'incontro 1-0 Wayne Williams Williams L'appoggio perché è alto Per Huck Pomm No perché Dice qui il primo tempo 1-0 Cardiff Ottimo Ottimo No però buono Dai dai Sbompa leggiare Dai 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 Meglio di quello Con i vostri Abbù 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 uno dei migliori Questo Milwall Abbù Bravissimo Applaudio a Niveoni Taglierega Taglierega Ma vince In the box Abbù Che cazzo ha parato Abbù Abbù Ottimo Tornis Alla sotto Dumbuia per Bernardeschi Bernardeschi cerca il fondo C'era uscito Grazie a rimessa laterale Se batte proprio lui Serve Abbù Abbù Vuoi ti presente Abbù 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 Ti Tornisci si come inizia si dice qui vado il pareggio primo punto la giornale c'è un capitolo abbiamo fatto una vittoria una sconfitta un pareggio dai si può fare meglio però comunque non è male come inizio diciamo rispetto alla parola sul pio 14 è decisamente buono comunque come sempre vi chiediamo di lasciare un bel like un bel commento qui sotto e magari consigliateci i commenti qui sotto dei nuovi giocatori da acquistare è già tutto qui e vi ricadere